Occhio alla notizia in studio Marco Ferri Vediamo insieme i titoli del sommario del nostro telegiornale Il focolaio di coronavirus nel reparto di medicina del Santa Croce A Fano TV parla il primario Gabriele Frausini Che assicura all'ospedale un luogo sicuro I pazienti subito isolati verranno trasferiti nelle strutture no covid appesa Medico in pensione e già positivo al covid decide di tornare in corsia Ecco la storia di Antonio Dottori Che dopo la firma del contratto a dicembre Andrà in prima linea nella battaglia contro il virus Lotta contro lo stupefacente a Fano Gli agenti del commissariato arrestano due persone A Bellocchi una madre segnala lo spaccio che veniva nel garage di casa Percepiva il reddito di cittadinanza senza averne diritto La guardia di finanza ha scoperto un furbetto residente del pesarese Che avrebbe ricevuto quasi 10.000 euro A Pesaro salta la cerimonia di accensione dell'albero di Natale in Piazza del Popolo Tra le iniziative un presepe di ghiaccio e un trenino che girerà per le vie del centro Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 E come avete sentito dal nostro sommario all'ospedale Santa Croce nel reparto di medicina È stato registrato un focolaio Covid-19 I pazienti sono in buone condizioni di salute e verranno trasferiti a Pesaro A spiegarci com'è la situazione e le procedure attivate Il primario del reparto, il dottor Gabriele Farosi Simona Zonghetti Il coronavirus si è diffuso tra alcune corsie dell'ospedale Santa Croce di Fano Lo ha fatto nei reparti di cardiologia e di medicina Generando in quest'ultimo caso un focolaio di 12 positivi 10 pazienti e 2 sanitari Il protocollo stabilito ci spiega il primario Gabriele Frausini È molto rigido e prevede che tutte le persone che si presentano in pronto soccorso Vengano sottoposte al tampone Se il test dovesse risultare negativo ma il paziente presenta comunque alcuni sintomi O un quadro radiologico sospetto Viene trasferito nella cosiddetta zona grigia Dove si effettua il secondo tampone L'ospedale, classificato come no Covid, è un luogo sicuro, aggiunge Ma è inevitabile che i medici e gli infermieri continuino ad avere una vita sociale Dobbiamo impegnarci per abbassare l'indice di contagio RT, prosegue il dottore E abbiamo due doveri, la tutela sanitaria e quella socio-economica Innanzitutto va detto in maniera chiara che il virus gira Il virus c'è in mezzo a noi, è molto diffuso Dobbiamo continuare a curare i pazienti Continuare a non far diffondere la malattia E rendere possibile quella che è la vita quotidiana di tutte le famiglie Di tutti gli operatori, tutti gli operai, tutti i professionisti Io credo di poter dire, senza troppa paura di essere smentito Che forse l'ospedale è uno dei posti più sicuri per queste cose Anche perché siete completamente bardati durante le ore di lavoro? Purtroppo sì, noi siamo bardati è una parola piccola Usiamo tutti i dispositivi di protezione che non sono soltanto la mascherina Ho una doppia maschera in questo momento Abbiamo dei camici di oro per lenti, abbiamo delle cuffie, abbiamo dei calzari Abbiamo i guanti, ma soprattutto dobbiamo tutelare la salute della gente Attraverso tutte quelle norme normali di vita Che sono quelle del lavare le mani e cercare il distanziamento Quando è possibile dobbiamo stare lontani tra di noi Cosa succederà nelle prossime ore? Verranno ulteriormente isolati o spostati i pazienti positivi? Fin da subito abbiamo creato una specie di bolla Cioè una zona isolata del reparto dove ci sono soltanto i positivi Vi posso assicurare appena finito la visita Che la maggior parte di questi pazienti non hanno sintomi riferibili al cobild Sono quasi tutti sfebrati Quindi è una positività cosiddetta incidentale Altrimenti fosse stato in un altro ambiente Non avrebbe saputo neanche di essere positivo Fatta la bolla abbiamo riunito l'unità di crisi L'ultima riunione di mezz'ora fa nella quale abbiamo già stabilito il da fare E siamo in procinto di trasferire questi pazienti nelle strutture Covid di Pesaro Frausini condivide il parziale lockdown messo in atto dalle istituzioni E si auspica che possa arrivare quanto prima il vaccino anti-Covid Nel frattempo, ha detto, è necessario prestare attenzione Quelle che sono le vere armi che hanno sconfitto tutte le grandi pandemie del mondo E dalla Spagnola in poi C'è stato il distanziamento sociale Questo non vuol dire che noi non abbiamo armi farmacologiche per affrontare questa malattia Ormai la conosciamo bene La prima ondata purtroppo ci ha fatto fare esperienza Sappiamo come collocare i farmaci Marche Nord è stata una delle prime strutture nelle Marche A procurarsi insieme per immune dai propri donatori E la stiamo usando con grande soddisfazione Abbiamo inoltre i farmaci derivati dall'artrite reumatoide Che sono fondamentali quando siamo di fronte a quelle tempeste Che noi chiamiamo citochiniche In cui l'organismo mette in atto delle difese immunitarie abnormi E crea i veri grandi problemi Che portano spesso questi pazienti in rianimazione Ce la possiamo fare Ce la dobbiamo fare L'arcobaleno deve essere il nostro simbolo E dobbiamo però dare tutti Tutti darci da fare nei propri ambiti Per le cose che possiamo fare Per venire fuori da questa brutta storia L'intervista integrale al dottor Frausini La troverete sul nostro sito internet occhioalanotizia.it Intanto si aggrava il bilancio marchigiano dei decessi Nelle ultime 24 ore sono 9 le persone decedute Il servizio sanità della regione fa sapere Appunto che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita Due uomini e sette donne Tutte con patologie pregresse A Pesaro è deceduta Un'anziana di 77 anni residente a Colli al Metauro I positivi invece sono 519 Di oltre 2.109 diagnosi E' ancora macerata la provincia Con il maggior numero di contagi Seguita da Ancona, Pesaro, Ascoli e Fermo 21 i nuovi casi da fuori regione Negli ospedali delle Marche Si registrano 4 pazienti in più Per un totale di 676 Sono in calo i ricoverati in terapia intensiva Che passano da 94 a 90 Ma aumentano i degenti semi-intensiva Ad oggi 150 E nella diretta di questa mattina Nella rassegna stampa Vi abbiamo raccontato la storia di Antonio Dottori Che è un medico in pensione Che ha deciso però di tornare Nelle corsie dell'ospedale di Fano Per dare il proprio contributo Nella lotta contro il coronavirus E' difficile dimenticarsi E pensare completamente ad altro Anche se ho tanti hobby Ma la medicina rimane la cosa principale Ha risposto all'appello lanciato Dall'azienda ospedaliera Marche Nord Antonio Dottori Medico in pensione Che dopo aver lavorato Anche all'ospedale di Pesaro Per 25 anni Ha diretto fino al 2015 Il pronto soccorso del Santa Croce Colpito dal Covid Nei mesi scorsi Ha deciso di dare il proprio contributo In questo periodo di emergenza sanitaria Dove si registra una carenza di personale Dunque in questi giorni sto facendo Firmando fogli Domani dovrei andare a firmare il contratto E salvo sorprese riprendo a servizio dal primo dicembre Dove verrà collocato? Ma mi ha detto il dottor Titolo Che attualmente è il dirigente Del pronto soccorso di Fano Che dovrei stare nelle retrovie Cioè seguire l'osservazione breve Intensiva L'osservazione temporanea Cioè diciamo è il luogo in cui i pazienti Vengono appoggiati dopo la visita in pronto soccorso In attesa di essere sistemati nei reparti O dimessi Il contratto ci spiega Sara di sei mesi Poi si vedrà anche in base all'andamento della pandemia Nella prima fase durante il lockdown Aveva deciso di non scendere in campo Perché Antonio, 69 anni Lo scorso anno ha avuto un infarto Ed è un soggetto a rischio Ora invece sapendo di essere già stato contagiato È più tranquillo Infatti la possibilità di infettarsi nuovamente È minima Come lui anche altri colleghi Sia medici che infermieri Hanno deciso di tornare in servizio Che cosa la preoccupa di più? La medicina non si dimentica Perché è come andare in bicicletta Ma il problema è ricordarsi Quel farmaco quante volte al giorno In che modo e tutto il resto Credo che mi ci vorrà almeno una settimana Per riprendere un minimo di abitudine Dottori che sta dimostrando un grande coraggio Oltre alla passione per il suo mestiere Ha ricordato anche il servizio di volontariato Che ha svolto di recente In Ecuador e poi Gli anni difficili in cui si lavorava Cercando di combattere un altro virus Ancor più insidioso L'AIDS È difficile togliere la paura Di un nemico invisibile Io come dico Prima di tutto sono forse E forse sono un incosciente Non lo so Se io entro in pronto soccorso Adesso sono passato l'altro giorno A vedere con il collega Non è che si lavora come una volta Si lavora con un camice Usa e getta Comunque con camici appositi Si lavora con la mascherina Ovviamente E con i guanti Quindi l'eventualità di venire a contatto Col virus è ridotta al minimo Il covid è estremamente infettivo Ed estremamente diffuso Molto più dell'influenza normale invernale Soprattutto perché l'influenza invernale Viene dominata dal vaccino Il covid purtroppo ancora no Quando avremo il vaccino Saremo nelle stesse condizioni La Regione Marche ha concluso L'accordo con i laboratori di analisi privati Per la diagnostica del covid I cittadini che lo vorranno Si legge in una nota Potranno eseguire in farmacia I test sierologici rapidi L'esecuzione avverrà nel rispetto Delle misure anticontagie Con prenotazione telefonica obbligatoria I risultati verranno trasmessi Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asur Per valutare se sottoporre il cittadino Al test molecolare Inoltre la Regione ha concordato Il prezzo massimo consigliato Di 19 euro a carico del cliente Invece per gli autotest Di cui ha parlato il Presidente del Veneto Luca Zaia Precisa l'assessore Saltamartini Ancora non c'è la validazione Del Ministero della Sanità E siamo in attesa di poter aggiungere Questo strumento per evitare La contaminazione familiare Che continua a essere una delle prime cause Della diffusione del virus E da domani intanto verrà riattivato Il numero verde Delle marche dedicato All'emergenza epidemiologica A partire dalle ore 14 Gli operatori telefonici saranno a disposizione Per fornire ai cittadini Tutte le informazioni e le risposte Ai quesiti inerenti al Covid-19 Il numero verde sarà attivo tutti i giorni Il mattino dalle 9 alle 13 E il pomeriggio dalle 14 alle 18 La cronaca Gli agenti del commissariato di Fano Hanno condotto un'operazione antidroga Che ha portato all'arresto di due persone Alla denuncia di due giovani spacciatori fanesi Letizia Marchionni Giorni impegnativi per gli agenti Del commissariato di Fano Guidato da Stefano Seretti Che con l'aiuto delle unità cinofile Ha condotto un'operazione antidroga Nel centro storico della città Finalizzata alla prevenzione Visti i numerosi furti Che sono avvenuti ultimamente Nel centro di Fano Ritenuti strettamente collegati Con persone dedicate al consumo di droga I controlli hanno portato All'individuazione di due giovani I cui strani movimenti Nei pressi di un bar chiuso In piazza veduti Hanno insospettito gli agenti I due sono stati inseguiti E bloccati dai poliziotti Che hanno trovato la ragazza Una fanese di 30 anni In possesso di alcune dosi di cocaina Appena acquistate Mentre lo spacciatore Un pesarese trentenne Poi arrestato Aveva con sé altre dosi di stupefacente E 100 euro frutto della vendita In zona Bellocchi poi Gli agenti hanno sorpreso Due giovani del posto Di 18 e 19 anni I quali utilizzavano Il garage di uno dei due Come luogo di incontro Per lo spaccio Ad altri giovani fanesi I poliziotti Grazie alla segnalazione Della madre di uno dei due Che aveva notato I movimenti sospetti Dei ragazzi Hanno sequestrato 24 dosi di marijuana Per un peso complessivo Di circa 20 grammi Ed hanno denunciato I due spacciatori Infine gli agenti Hanno proceduto Con l'arresto Di un uomo Sorpreso fuori Dal comune di Fano Per l'inosservanza Alle prescrizioni Imposte dalla sorveglianza Speciale A cui era sottoposto Disposta dal tribunale Di Viterbo Il 45enne Originario del Lazio Ma residente a Fano Inoltre È stato fermato A bordo di un'autovettura Nonostante la sua patente Fosse stata revocata Motivo per il quale È stato anche denunciato Percepiva il reddito Di cittadinanza Senza averne il diritto La guardia di finanza Ha scoperto Un furbetto residente Nel Pesarese Che avrebbe ricevuto Circa 9.600 euro Dai controlli Dei militari È emerso Che l'interessato È titolare Di partita IVA Per l'anno 2017 Avrebbe conseguito Reddito d'impresa Per 16.700 euro Mai dichiarato Al fisco Per altri due anni Poi avrebbe vinto 17.000 euro Con i giochi online Omettendo di riportare Le informazioni necessarie Al calcolo Dell'Isee Il soggetto È stato segnalato Sia alla Procura Della Repubblica Di Pesaro Per indebita percezione Di erogazione E danni dello Stato E all'Inps Per il blocco Del beneficio E recupero Delle somme Incassate E adesso Cambiamo argomento Parliamo Della semina La semina È quella Che si sta effettuando In queste settimane Nei nostri campi E allora Il punto Della situazione Con Filippo Pucci Finita la raccolta È già tempo Per gli agricoltori Di pensare All'annata successiva Ora È il momento Della semina La terra vecchia Però Prima va Mossa Rigirata E aerata Grazie all'uso Dell'aratro Che consente Una migliore Circolazione Tra i semi Nel terreno Che verranno Poi seminati Con l'aiuto Dell'erpice Invece Le grosse Zole di terra Lasciate dall'aratro Vengono sminuzzate E con una spianatrice Si rende la superficie Perfettamente piatta Una volta così Preparato il terreno È il momento Della seminatrice Dove i semi Di varie qualità Vengono interrati Tutti alla stessa profondità Ma vediamo Come funziona Una seminatrice Dentro questo contenitore Chiamato tramoggia Vengono caricati i semi Che attraverso questi tubi Vengono convogliati Verso l'assolcatore Ovvero la parte finale Dove il chicco Viene interrato Per poi essere coperto Dall'erpice copriseme Ed ecco che nei campi spogli Della nostra provincia Riparte il ciclo Della nascita Di nuovi frutti Della terra Come sta accadendo D'alcune settimane Alla cooperativa agricola Di falcineto Abbiamo iniziato Dal 20 ottobre circa Stiamo seminando il grano E siamo a buon punto Anche se l'ultima settimana È stata un po' Diciamo col maltempo All'inizio Il maltempo alla fine Se ne è fatto veramente poco Ma già dalla prossima settimana Sembra che le previsioni Metano bene E quindi ci avvanteggeremo Cercheremo di chiudere col grano Complice di questa Semina anticipata Il bel tempo Nel mese di ottobre Sì abbiamo iniziato Qualche giorno prima Perché il tempo permetteva Allora senza star lì Aspettare Magari ci siamo dati da fare E infatti ci siamo trovati Abbastanza avanti E infine dopo il grano Cosa seminerete? Ha finito il grano Cominceremo con i piselli Sia freschi che proteici E poi per arrivare circa lì Intorno a Natale Poi con le semine Avremo finito Ma seppur le mille tecnologie di oggi Come la guida satellitare Oppure il comfort Di un mezzo di ultima generazione C'è anche chi Ancora in questi periodi Nel comune di Urbania Semina a mano Spargendo i semi Lungo i campi Come un tempo Tra la felicità E il sacrificio Del lavoro in agricoltura E adesso andiamo a Pesaro Dove sono state presentate Questa mattina Le iniziative di Natale Salta la cerimonia Con l'accensione dell'albero Però sono state annunciate Anche altre novità Come il presepe di ghiaccio E un trenino Che farà il giro Nelle vie del centro Angelica Panzieri Sarà nel cuore dei cittadini Ma anche nelle vie laterali Del centro storico Dove è già stato allestito Il tappeto rosso Il Natale 2020 a Pesaro Che quest'anno cambia dimensione Si arricchisce di idee E si ridistribuisce Nello spazio Per via del Covid Cambierà la forma Ma non la sostanza Quindi il Natale Splenderà non solo in centro Ma anche nei 12 quartieri Del comune Nel municipio Di Monte Ciccardo Dove splenderanno Lanterne luminose E ancora nel trenino turistico Che passerà Per le vie del centro Attivo dal 28 novembre Fino al 6 gennaio 2021 Nelle luci Che illumineranno L'albero da record In piazza del popolo Dove creare Un'atmosfera suggestiva Ci sarà anche Il presepe di ghiaccio E poi Nelle vetrine dei negozi Che saranno Addobbate a tema È un trenino Molto simpatico Interessante Soprattutto per i più piccoli È un trenino Che toccherà Tutte le vie principali Del centro storico Con diverse fermate Con un biglietto A presto Diciamo Abbastanza basso E un'altra cosa Che abbiamo cercato Comunque sia di salvaguardare Di riuscire a realizzare È il presepe di ghiaccio Una bellissima installazione La natività E quindi È una figura Diciamo storica E realizzosa Della nostra Cultura E assieme a questa Natività Vicino ci sarà una sorpresa Perché verranno Scolpiti Sempre sul ghiaccio Dei personaggi In più Un'altra cosa Che stiamo portando avanti È quella Della filodiffusione Musicale Incrementeremo Ancora di più La filodiffusione Nel centro storico Con tante canzoni E tante nenie Che rispecchiano Il Natale Un Natale Solidale Pensato anche Per sostenere Le realtà locali In particolar modo Però per i quartieri Abbiamo deciso Anche oltre L'attività Che assessorato Ai quartieri Come la della Dora Aveva già programmato Per il Natale Di dare anche Un bonus ulteriore Anche come ringraziamento Ai volontari Dei quartieri Ai consigli Di quartiere Per l'attività Che stanno svolgendo E che svolgeranno In queste settimane Per la consiglia Dei buoni Per quelle che sono Tutte le attività Sul territorio In ogni quartiere Potrà presentare Un progetto Per mille euro E quindi sarà Un'attività in più Per rivolte alle famiglie Rivolte ai bambini Rivolte a quello Che ogni quartiere In base alla propria Progettualità Vorrà fare Per dare un senso Nel Natale ulteriore Infine Un bando rivolto Alle attività di vicinato Bar, negozi Ristoranti Gastronomie Pizzerie E piccoli artigiani Pensato dal comune Per premiare Le migliori idee Degli esercizi commerciali Dell'intero territorio Comunale di Pesaro Ci saranno Questi 20.000 euro Dove verranno premiati I 10 progetti Dove le attività Dovranno fare Aggregazione Sinergia di impresa E presentare Dei progetti Che siano collegati Alla comunicazione Di impresa Innovazione Tecnologia Oppure anche Collegati Al decoro natalizio La domanda Dovrà essere fatta Entro il 5 di dicembre Presentando poi Le spese Che Le attività Avranno dovuto Sostenere Automaticamente Verranno versati 2.000 euro Dei progetti Che di più Alla commissione Perché verrà fatta Una commissione Che valuterà I progetti Con un punteggio E nell'arco Di pochi giorni Verranno erogati I soldi E di Natale E di fede Al tempo Del coronavirus Abbiamo parlato Questa mattina Anche con padre Gianfranco Casagrande Della parrocchia Del porto Di Fano La pandemia E il lockdown Ci hanno costretti A fermarci E a eliminare Il superfluo Facendo spazio All'essenziale In tanti Hanno dovuto Fronteggiare Sofferenze Paure Preoccupazioni Qualcuno Anche la perdita Di amici e familiari In questo periodo La religione E la spiritualità Hanno mantenuto Un ruolo importante Per molti Che hanno avuto L'occasione Di riflettere Sul proprio rapporto Con la fede C'è chi ha pregato In solitudine Chi invece Ha condiviso Video, letture E approfondimenti Di testi sacri La ripresa Dei contagi Però ha generato Dubbi e incertezza Sul futuro A lanciare un messaggio Ai fedeli Questa mattina È stato padre Gianfranco Casagrande Parroco Della chiesa Di San Giuseppe Al porto Cristo Se noi reinseriamo La vita di Cristo La persona di Gesù Cristo Dentro le nostre vicende Familiari Personali Sociali Noi ci accorgiamo Che Cristo Ci dà una forza tale Il suo spirito Lo spirito santo Per sapere Reagire Al male Per sapere Reagire Alla tentazione Di fissare La nostra vita Solo Sulle cose terrene Padre Gianfranco Ci ha parlato anche Del Natale Che verrà A partire dal possibile Cambio d'orario Della Santa Messa Il tempo della Bibbia Detto non è il tempo Dell'orologio Ma dell'opportunità Che Cristo è venuto A portarci Noi dobbiamo recuperare Come i cristiani Proprio il cairossi Il momento di grazia L'opportunità Che Dio ci dà Indipendentemente Dall'orologio La Messa di Mezzanotte È stata messa lì A mezzanotte Per rievocare La notte In cui nasce Il Salvatore Il Messia Quindi è simbolica Sostanzialmente È un simbolo È un segno Come è un segno Il presepio E questo presepe Curato da Rolando E dagli altri componenti Dell'associazione Il Ridosso Verrà posizionato All'interno della chiesa Già dall'8 dicembre Rappresenta il Natale Nella città di Fano Sono stati riprodotti I luoghi simbolo Del porto Dal canale Alla d'Arsena borghese Dal faro Al ponte del Lido Fino alla chiesa A Montegiove E alla collina del Rosario Poi abbiamo la Natività Quindi questo angolo Di Betlemme Della Palestina Che è inserito Dentro la nostra città È l'Eterno Che entra A far parte Della nostra civiltà Della nostra cultura Della nostra fede E che viene proprio A rianimare Da dentro Dal cuore Dall'anima Quello che Normalmente La società Tende a spegnere A smorzare L'amore Lo vogliamo infinito Che non termini mai Che non finisca più La salute La vogliamo infinita Che non sia mai intaccata Da incidenti Di percorso E così via Se riuscissimo A trovare Mezz'ora di tempo Ogni giorno Dell'Avvento Durante i giorni feriali Per partecipare All'Eucaristia E nutrirci Del pane eucaristico Il pane Della vita eterna Chiaramente La vita eterna Si sviluppa Dentro di noi E il Natale Sarà bellissimo Perché il vero dono Il vero regalo Non sarà il panettone Il torrone Il ballo Il cenone O la messa Di mezzanotte Se è a mezzanotte O alle nove della sera O anche alle cinque Del pomeriggio Perché già è notte No? Ma il regalo Più grande Sarà proprio Che abbiamo fatto Nascere Dentro di noi La vita Dell'Eterno La vita Di Dio E allora Adesso Salutiamo E facciamo I nostri Auguri e complimenti Le congratulazioni A Martina Patregnani Di Fossombrone Che oggi Si è laureata Con 110 E lode In psicologia sociale Del lavoro E della comunicazione Da lunedì prossimo Torna su Fano TV Uno dei programmi Più amati Dai bambini A casa di Babbo Natale Nelle giornate Di lunedì Mercoledì E venerdì Dalle 18 e 30 In diretta I più piccoli Potranno telefonare Al numero Che ormai conoscete 0721 86 14 33 Per parlare Direttamente Appunto Con Babbo Natale Subito dopo di noi Le previsioni del tempo E poi La programmazione Di Fano TV Vi ricordo Che per le vostre Segnalazioni Il numero Da comporre È Il 338 49 68 250 L'informazione Torna domani mattina Alle 7 in diretta Con la rassegna stampa Ok giornale Arrivederci Grazie a tutti